Buonasera a tutti voi, telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, siamo a una nuova puntata di Obiettivo Salute, il programma che stiamo realizzando nella struttura di Fisioradi, la nuova struttura di Fisioradi nel quartiere di Vismara di Pesaro. Oggi incontreremo il dottor Massimiliano Pulidori, neurochirurgo specialista nella colonna vertebrale. Ma ci premeva dire, prima di sentire il neurochirurgo su quella che è la sua professionalità, su quella che è la sua specializzazione, ci piaceva dire che non è un caso che siamo a Fisioradi, perché Fisioradi nasce proprio per fare un percorso integrato nella riabilitazione. E se da una parte è importantissimo come il neurochirurgo possa intervenire e rendersi conto di quelli che sono i problemi della schiena, delle colonne vertebrali, soprattutto nella persona anziana, l'aspetto estremamente importante da sottolineare è che è fondamentale poi la riabilitazione, tutto il percorso, perché queste persone che incorrono in qualche problema alla colonna vertebrale possano tranquillamente rimettersi in piedi. Eccoci qui nello studio del dottor Massimiliano Pulidori, neurochirurgo, quindi specialista soprattutto per quello che riguarda l'apparato vertebrale. Sì, la chirurgia vertebrale. La chirurgia vertebrale, siamo negli ancora una volta Fisioradi, dove il dottore viene circa due volte al mese per la sua professione, per mettere in campo la sua professione, una professione che nell'immaginario popolare il neurochirurgo è sempre questa figura così importante. Ha parlato di proprio chirurgia vertebrale, quindi l'apparato vertebrale chiaramente è un apparato molto implicato in quelle che sono le patologie, soprattutto legate all'inalzamento dell'età, ma non solo. Quando parliamo di osteoporosi ci rivolgiamo, ci riferiamo sicuramente a una popolazione anziana, ma il problema della calonna vertebrale possono anche riguardare i giovani. Certamente sì. Primo fra tutti anche le fratture, cioè i traumi, gli incidenti stradali possono causare delle fratture anche nella popolazione giovane. Tuttavia non sono così frequenti come le fratture che si realizzano invece in età avanzata e che hanno delle molteplici cause. Sempre il trauma, bene o male, c'è sempre la caduta dell'anziano, eccetera. Ma soprattutto quello che è importante è l'osteoporosi, cioè è la base su cui questa frattura si crea, cioè un indebolimento del tessuto osseo in cui il tessuto diventa veramente molto fragile e quindi anche un minimo urto, oppure basta il sollevamento di un peso, crea appunto la frattura vertebrale, che non è altro che uno schiacciamento del corpo vertebrale stesso. Questo ha varie sintomatologie, si può manifestare in vario modo. Ovviamente nei traumi stradali si assiste spesso a delle fratture maggiori, quindi con un interessamento anche del midollo spinale, però è un argomento differente. quelle di cui ci si occupa in elezione sono le fratture vertebrali, spesso dell'anziano, che sono conseguenti all'osteoporosi e che quindi hanno molteplici possibilità di trattamento anche abbastanza conservativo. È facile diagnosticare questo tipo di fratture? Ci si può riferire ad alcuni sintomi? Come fare? La sintomatologia è fondamentale soprattutto nella frattura dell'anziano conseguente anche a un minimo trauma vertebrale e soprattutto il dolore. Il dolore è l'aspetto principale che ci deve guidare nel contesto di fare la diagnosi. Dolore puntorio, un dolore che soprattutto si manifesta con il carico, cioè quando la persona si mette in piedi, il disco e il corpo vertebrale si schiacciano e questo crea un dolore a cintura spesso o a livello dorsale o a livello lombare a seconda di dove è avvenuta la frattura. Si può avere anche il gonfiore, però soprattutto diciamo il sintomo principe è il dolore. E invece la diagnosi è molto importante perché la diagnosi va fatta il più rapidamente possibile attraverso la diagnostica radiologica e questa si compone all'inizio di una radiografia semplice della colonna in cui si vede l'abbassamento del corpo vertebrale. E poi sarà il neurochirurgo a richiedere o una TAC o una risonanza per un ulteriore approfondimento. La TAC ci fa vedere molto bene la struttura ossea e se c'è una rottura nello specifico del muro posteriore che potrebbe comportare un grosso danno e un grosso pericolo per il paziente perché comporterebbe poi dei deficit neurologici. La risonanza invece non ci fa solo una diagnosi di frattura, ma ci fa anche una diagnosi di tempistica della frattura, cioè riusciamo a stabilire se la frattura è recente oppure se la frattura è inveterata, cioè vecchia e ormai consolidata. La risonanza infatti ha una sequenza particolare che si chiama sequenza STIR in cui la vertebra appare iper intensa, appare molto luminosa a differenza di una frattura invece inveterata che appare più scura. E questo è importante da valutare perché ci aiuta anche nel monitoraggio del paziente e nel monitoraggio della guarigione stessa della frattura. Ecco, un aspetto importante, cioè capire poi in realtà come si può provare a curare questo tipo di patologia. Diciamo che questo tipo di patologia, la frattura vertebrale dell'anziano, si apre un grosso capitolo. Spesso si tratta di trattamenti di tipo conservativo, cioè ormai si tende ad operare il meno possibile e si utilizza o un busto, un busto che può essere a seconda del livello interessato, un busto C35, un somi brace, oppure un busto steccato con degli spallacci per una frattura dorsale, per esempio. E quindi un tutore che cerca di impedire la mobilizzazione della colonna e quindi anche il peggioramento, perché la compressione, se non c'è nessuna struttura di sostegno, potrebbe ulteriormente aggravarsi e quindi si potrebbe rompere ancora di più la frattura e dar luogo a delle problematiche di tipo neurologico. Poi ci sono tutti gli aspetti di tipo mini-invasivo e le fratture, per esempio, si possono trattare anche con la vertebroplastica, cioè una piccola procedura chirurgica percutanea, quindi senza tagli, senza punti, in cui con un aghino si va precisamente sotto scopia ad individuare la vertebra rotta e a iniettare dentro una sostanza a base di polimetilmetacrilato, che è un cemento acrilico, una colla, diciamo, acrilica, che va a indurire e a consolidare immediatamente la frattura. Oppure, nei casi molto gravi, in cui c'è un deficit neurologico importante e in cui c'è un interessamento anche del muro posteriore, con quindi una perdita di forza sulle gambe, eccetera, allora è necessaria invece una chirurgia di primo livello più importante con una stabilizzazione vertebrale con le viti e le barre, la classica artrodesi vertebrale. Però diciamo che questa è proprio l'ultima razza. L'ultima razza. Oppure la prima razza in casi molto molto gravi. E spesso, ecco, negli anziani però, la terapia conservativa o al massimo la vertebroplastica sono sufficienti per un buon trattamento. Importante quello che ha detto perché chiaramente sono, soprattutto la vertebroplastica, è una possibilità non invasiva che può risolvere i problemi. La ringraziamo, dottore. Abbiamo detto all'inizio dell'intervista che lei viene due volte la settimana qui a Pesaro. Abbiamo riconosciuto il suo inconfondibile accento, quindi sappiamo che viene da una regione bella altrettanto quale è la nostra. Quindi grazie davvero per la sua intervista. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.